Che emozione, un posto meraviglioso. Ho detto scriverò un altro libro per tornarci. Allora voi dovete capire che esiste un dio degli intervistatori che ogni tanto ti premia e ti mette davanti una persona a cui non smetteresti più di far domande. Il mio premio è Simone, anzi il mio regalo di Natale, perché più o meno in questo periodo dell'anno noi ci sentiamo, Simone tiene una rubrica meravigliosa sul mio giornale, Elle, e Simone mi racconta gli astri dell'anno che verrà. Quest'anno devo essere stata particolarmente buona e quindi il premio, il regalo di Natale raddoppia ed eccoci qui a parlare del suo nuovo meraviglioso libro di questo 2023. Che, attenzione, è un libro diverso da tutti quelli che potete trovare sull'anno che verrà, perché sostanzialmente il nostro astrologo è un astrologo differente. È un astrologo differente perché lui, sì, certo fa anche lui previsioni, ma lui è un po' il nostro Piero Angela dell'astrologia, un divulgatore. Lui non si accontenta di fare previsioni, lui unisce, come dice nel libro nuovo, unisce puntini. Adesso il mio ego esplode come un airbag, te lo dico, state attenti perché adesso il mio ego esplode come un airbag. E quindi, come dice appunto all'inizio del nostro libro, unisce puntini e vi spiega. Quindi, partiamo a bomba. Cosa dicono questi puntini, Simone, per questo 2023? Beh, intanto io ti ringrazio tantissimo veramente per questa cosa, a parte gli scherzi. Allora, a me l'idea di essere, diciamo, diverso da quello che c'era prima e di portare nel mio piccolo qualcosa di diverso, mi piace molto da acquario. Non posso chiamarlo tutto questo, però la verità è che probabilmente c'è un mistero di cui abbiamo colto solamente alcuni piccoli aspetti. E quindi già cercare di unire i puntini e di creare una figura più larga è probabilmente una curiosità che ognuno di noi ha dentro di sé. Secondo me poi non c'è neanche tanto una questione di... Cioè l'astrologia è qualcosa di diverso rispetto all'oroscopo ed è molto molto più larga. Secondo me ha molto a che fare con la filosofia e secondo me è una filosofia del tempo. Cioè secondo me il vero protagonista del quale tutti noi parliamo quando facciamo astrologia cercando di andare ai simboli, ai significati più profondi è proprio il tempo. Perché è vero che i pianeti, quello si è messo storto, quello si è ritornato dritto, eccetera, eccetera, è vero. Quello è il nostro gergo perché comunque questa è una filosofia che è nata 5.000 anni fa e quindi a quello faceva riferimento. Ma il fatto di dire ad esempio che Saturno mi è tornato nel segno, siccome Saturno è un pianeta che dalla notte dei tempi, quindi da milioni e milioni di anni, ci mette 29 anni a fare un giro attorno al sole, significa dire sono passati 29 anni. Allora la questione non è se Saturno con i suoi anelli bellissimi peraltro mi condiziona, mi influenza, cioè tutti questi termini sono sbagliati. Quindi Saturno segna un tempo e il suo ritorno mi dà la possibilità di osservare che è passato quel tempo. Se quel tempo poi ha degli effetti e quindi se il tempo non è solo misurabile per quantità ma anche per qualità, allora questa è la vera domanda che c'è dietro l'astrologia. E quindi il passare del tempo, di determinati lassi di tempo, produce degli effetti. Il fatto che sia decorso quel tempo e quindi che ripassiamo dal via rispetto a quello stesso ciclo, ci rimette di fronte a delle situazioni che abbiamo già visto. Cioè questa è la domanda a che fare col tempo, che probabilmente è il più grande mistero nel quale siamo immersi. E quindi io da curioso, da acquario, da avvocato semipentito, dodici anni fa ho detto sai che c'è, qui c'è qualcosa di interessante e ho cominciato a studiarla. Io credo che poi una delle più grandi qualità dell'acquario forse o mia è il fatto di dare la gomitata al vicino di banco e dire ma l'hai mai considerata sta cosa? Bra, è grande! Secondo me l'acquario ha questa capacità di stimolare la curiosità negli altri, dire ma questa cosa l'avevi mai considerata? Poi non è che abbia delle risposte perché poi forse nessuno ce le ha, però già stimolare la domanda nel vicino è già come dire un meccanismo. E quindi ho cominciato a studiarla, ho aperto questa pagina Facebook dove mai avrei potuto pensare che sarebbe uscita fuori questa slavina. Slavina però nel tempo perché sono quasi dieci anni, quindi insomma in qualche modo i libri hanno visto gli ultimi anni di questo decennio, però in realtà c'era tutto un lavoro più sotto traccia da prima. E quindi sono sempre stato diciamo quello che ha un punto di vista, un'angolatura diversa. Unire i puntini, quali sono i puntini del 2023? Sono tantissimi, io l'oroscopo 2022 non l'ho scritto perché era un anno un po' in colore, cioè era un anno di passaggio, ho detto vabbè facciamo un'altra cosa. Invece il 2023 ho proprio sentito il desiderio di scriverlo, perché comunque è un anno che per un astrologo è pieno di stimoli, di riflessioni, di situazioni che cambiano. C'è un pianeta che è Plutone che sta lì dal 2008 e che si sposta. Allora evidentemente per uno che ha il pensiero, il ragionamento astrologico, il fatto che è un gigante del genere, che poi è minuscolo, però essendo il più lontano, il più lento, il più profondo, quando si sposta lui veramente cambia, cambiano le luci sul palco. Ed è stato per 15 anni in Capricorno, che è comunque un segno rigido, è un segno regolamentato, un segno che parla di differenze, non se ne abbiano i nati sotto il segno del Capricorno, qua stiamo parlando come dire di un principio astratto, però effettivamente Plutone che è il pianeta del potere in Capricorno, che è il segno del rigore, ci ha portato la crisi economica dopo il 29, ci ha portato tutta una serie di questioni legate ai confini, ai territori, alle distanze, alle regole. L'arrivo di Plutone in acquario ha proprio un senso completamente diverso. Plutone mancava dall'acquario dalla seconda metà del Settecento, quindi la rivoluzione industriale, la rivoluzione francese, la partecipazione dell'uomo alla gestione del potere, l'innovazione, eccetera, eccetera. Quindi comunque è un grande risveglio. Per cui questo già dà un comune denominatore all'anno che vale per tutti i segni e che secondo me si può riassumere dicendo che saltano i tappi. Per cui qualunque cosa ci abbia tenuto un po' bloccati, qualunque cosa non abbiamo tirato fuori per paura di non essere pronti, di non essere capiti, di pentircene, qualunque corda di noi stessi abbiamo tenuto da parte, probabilmente emerge ed emerge anche con un'eruzione che in qualche modo potrebbe sorprendere chi abbiamo accanto. Quindi è un anno di grande verità e di grande autoaffermazione. Già questo insomma ci piace. Poi è un anno in cui si spostano anche Giove e Saturno, quindi le prime tre grandi lancette si spostano tutte e tre e ognuna in un gruppo di segni diverso. Quindi un po' per tutti e dodici c'è comunque una piccola grande svolta, un piccolo grande momento di ribellione, un piccolo grande momento di riappropriazione di quelli che sono così il timone delle proprie scelte. Quindi è comunque un anno forte. E vabbè. No, io poi bloccatemi perché ho deraglio, cioè parlerei per ore. Ci avete presente i compagni di scuola dove c'era Postiglione, quello che non stava zitto un attimo, che poi alla fine lo drogano col vino? Allora io ho sempre il terrore di fare come Postiglione, per cui dice questi dopo un po' si buttano per terra e quindi arginatemi. Tu prima parlavi del tempo. Nel tuo libro si vede molto bene che questa idea del tempo non è soltanto riferita ai pianeti, ai pianeti lenti, insomma queste grandiere, ma esattamente come l'hai descritta si applica anche all'anno in corso. Noi possiamo dividere l'anno in dodici spicchi che ci raccontano delle cose, giusto? Sì, io questa è una cosa sulla quale insisto tanto da un sacco di tempo, ancora prima dei libri. Il giro dell'anno in dodici tappe, questo giro dell'anno. Cioè io mi ero reso conto, ancora prima di iniziare a studiare astrologia, che negli stessi mesi mi succedevano delle cose simili e che in particolare c'erano dei mesi chiave dove succedeva tutto e dei mesi di passaggio in cui invece diciamo che c'erano situazioni più tranquille. Questa cosa l'ho osservata e mi son detto in questo complesso orologio con dieci lancette ce n'è solo una che di anno in anno fa lo stesso identico giro di mese in mese ed è il sole il quale si sposta sempre uguale per cui oggi è in Sagittario tra un milione di anni sarà in Sagittario. E questa cosa fa sì che nell'ambito del mio tema di nascita questa lancetta accenda gli stessi punti negli stessi momenti dell'anno e quindi questo mi ha portato a credere che effettivamente per ognuno di noi ci sia una sorta di anno tipo cioè di schema annuale che si ripete di anno in anno. Ovviamente se uno potesse andarselo a costruire sul proprio tema di nascita l'avrebbe estremamente dettagliato però nel libro l'abbiamo costruito in base al segno solare per cui non solo ci sono ovviamente le previsioni per cui uno apre e c'è scritto marzo per il toro e c'è una previsione però dice anche che marzo per il toro rappresenta l'undicesima tappa di un viaggio che è iniziato a maggio e che quindi a marzo sta finendo e già questo me lo contestualizza perché immaginate l'anno come se fosse un ciclo lunare i primi sei mesi sono la fase crescente quindi sono sono dedicati più alla semina i secondi sei mesi sono la fase decrescente la fase calante quindi sono più dai diti al raccolto la prima metà è il viaggio di andata la seconda è il viaggio di ritorno il viaggio di ritorno ha una consapevolezza che all'andata non c'è tant'è che quando fate il ritorno anche di una passeggiata vi sembra più breve perché sono cose che avete già visto allora tutta questa questa trama sotto al libro per cui come è articolato l'anno quali sono i mesi di andata quali di ritorno quali sono i mesi più accentati c'è tutta nel libro poi è chiaro che un libro che si legge a cipolla nel senso che c'è chi si ferma a leggere marzo e dice vabbè io mi interessa quello grazie e chi invece vuole andare un pochino a scavare di più e quindi per ogni mese c'è scritto a quale tappa corrisponde quali sono i temi chiave di quella tappa lì poi per chi volesse ancora di più c'è un QR code dove poi c'è proprio un giro dell'anno dettagliatissimo nelle varie tappe e spiega anche il perché quelli siano i temi chiave di quelle tappe lì insomma è molto il senso però è sempre lo stesso è quello di cui parlavamo prima tutto è articolato in cicli che sono articolati in 12 passi non sono mescolabili cioè io non potrei prendere i segni e metterli in un ordine diverso perché hanno un ordine logico dove ognuno rappresenta un passo di un di un percorso la rieta è il primo perché esprime l'iniziativa l'iniziativa è come la scintilla che fa accendere il motore non la posso mettere in mezzo al cerchio c'è bisogno che stia lì e quindi lo sforzo è quello di articolare il tutto in cicli di 12 passi dove ogni passo abbia il suo senso e anche l'anno è costruito così una cosa abbastanza voi capite perché come dire ma tu che eri e sei tuttora un avvocato comunque insomma fino a 12 anni fa il tuo mestiere era quello sì carta di identità avvocato adesso hai scritto astrologo non era sulla carta di identità non ci sta ancora avvocato pensa un po' eh sì come come ti sei ritrovato no a cambiare vita così ma allora in realtà il cambio vero è stato organizzativo nel senso che organizzare il tempo e trovare il tempo è diventato un'impresa però sulle cose che facevo non mi sono trovato a sterzare radicalmente sai dice come il manager di una grande impresa che diventa un monaco del silenzio sull'Himalaya cioè il mio il mio cambio in realtà non è stato così radicale nel senso che poi secondo me tra quello che facevo prima e quello che faccio adesso c'è una certa continuità perché tanto la legge quanto l'astrologia ti costringono a pensare per metafore e ad adottare il pensiero simbolico anche una norma è scritta in un certo modo ma poi il vero gioco del giurista è capire quali sono i casi concreti a cui si può applicare e quali no capendo quali rientrano in una fattispecie astratta e quali no la stessa cosa sull'astrologia nel senso che è chiaro che ogni transito ogni aspetto può avere un senso simbolico che tu poi riesci a tradurre in situazioni concrete più o meno dettagliate però se non hai quella capacità di pensare per simboli è difficile farlo e quindi poi i piani in me si sono mescolati perché io come avvocato mi sono sempre occupato di artisti per cui pazzi come me per cui poi questa cosa li diverte e allora chiedono quindi insomma però certo l'affollamento di queste due cose insieme è una cosa che va è difficile da gestire tant'è che io da bravo acquario poi vedremo sui vari segni però sono arrivato sin qui con un piede da una parte un piede dall'altra però il mio cielo vorrebbe in astratto che il 2023 fosse l'anno di una scelta radicale per cui probabilmente qui bisogna prendere posizione se ci mettete il fatto che io ho l'ascendente leone e che sua cristina del leone ha appena rinunciato al velo se lei ha rinunciato al velo io potrò pure appendere la toga per qualche tempo poi no voglio dire anche meno dirompente come cambiamento quindi probabilmente secondo me l'anno prossimo ci sarà un po' una cosa di questo tipo ma non perché non mi piaccia anzi fosse per l'acquario che c'è una visione circolare del tempo ci starebbe dentro tutto e anche di più però alla fin fine mi rendo conto che per fare così e lo racconto perché può risuonare con alcuni acquari presenti qui a forza di fare così poi finisco a stare sempre in affanno e probabilmente è vero che riesco a mantenere in equilibrio come il giocoliere però nessuna delle due riesce veramente a esplodere come potrebbe se uno le dedicasse tutto l'impegno e tutto il tempo questa è una cosa che la sto raccontando perché rientra molto nel cielo dell'acquario del momento però insomma sì astro avvocato quando vado in udienza è un casino l'ultima volta il giudice ha detto senta ma del capricorno che mi dice no a me mi succede tirato non succede mai 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 perché non ho quasi mai delle questioni che richiedano l'aula il giudizio cioè mi occupo di stare giudiziali però ultimamente è successo e devo dire che si davano del braccetto non capivano bene senti Simone ma non sono usciso il gabibbo a un certo punto quali sono le domande tipo che ti senti fare perché poi l'astrologo è comunque sempre vittima del mondo scusa guarda volevo dirti questo ecco ma allora in realtà io ho la fortuna di avere anche un pubblico estremamente eterogeneo ed estremamente curioso per cui molto spesso sono domande sull'astrologia sul come funziona sul proprio tema di nascita cioè devo dire che però ce n'è una che è proprio la più gettonata di tutti e ovviamente è una domanda sull'amore che però non è mai una domanda su di sé o sul partner solitamente è su una terza persona che sta con un'altra e la domanda è ma con chi starà nel lungo termine con me o con l'altra persona no è una specie di astrologia per procura chiedo per un amico in particolare però diciamo che io una cosa che tante persone con cui lavoro anche il mio editore mi ha sempre detto è tu hai una capacità che non lo so se è vero di essere alto e basso per cui di mettere insieme diciamo la filosofia ma anche la concretezza per cui io obiettivamente persone che mi scrivono con delle domande strabilianti e persone che mi chiedono delle cose un po' più spicciole però mi piace sia l'uno che l'altra parte perché secondo me e qui il mio ego prima non è esploso a caso su Piero Angela diciamo che probabilmente la capacità di essere alti e bassi e di portare delle realtà più complesse in una situazione più semplice è una bella virtù insomma non è una cosa bella nel senso che altrimenti come dire stare su un fronte dove non ti capisce nessuno è facile e anche parlare solamente di cose molto spicciole per cui insomma questa parte a me piace molto è chiaro che non è semplice perché per esempio in questo libro per l'ennesima volta ho dedicato un film a ogni segno e quindi 12 film per trovare 12 film devi vedere una cinquantina perché non è che è proprio la prima cosa che trovi questo è il settimo anno che rifaccio questa cosa quindi ormai ho usato 72 film che sono pochi rispetto alla produzione mondiale di cinematografia però quelli che servono a me non sono poi tantissimi perché devono essere chiari molto spesso le storie d'amore non riesco a usarle perché non si capisce su chi dei due sto o comunque qual è l'arco di trasformazione quindi insomma un film mio ce ne vogliono 10 normali per trovarlo e a volte poi te lo perdi perché ti tradisce sul finale perché non si capisce perché ti molla l'ultimo per cui insomma io a volte mi scelgo la strada difficile eppure questo è il sesto libro il mio primo editore al salto tra il primo e il secondo mi diceva tu devi trovare un nuovo formato perché questo non è un formato che si riesce a sostenere sul lungo termine e io dicevo è vero però non riesco non riuscirei a farlo in un'altra maniera sono passati otto anni ne ho fatti sei due li ho saltati perché aveva ragione che tutti gli anni non si riesce però io non riuscirei a farlo in una maniera diversa da questa perché mi piace l'idea di dare uno sguardo molto sfaccettato di parlare anche per immagini di parlare anche per emozioni di che io ho un libro che tu giri la copertina e ci sta ariete gennaio non lo riesco a fare quindi quindi alla fine preferisco rendermi la vita complicata e farne magari uno sì due sì e uno no però farli come dico io se no rimanevo a fare l'avvocato scusa tra l'altro in questo libro la grande new entry sono i tarocchi ogni segno ha la sua carta come mai? eh sì perché in realtà ci siamo portati a presso due anni in cui abbiamo inventato l'astro DJ set e quindi una canzone per ogni segno in cui il maestro Roy che è bilancio ha cominciato piano piano ad emergere sempre di più a fare i suoi tarocchi a dire le sue cose a parire in diretta e quindi come dire c'è stato il suo contributo e quindi in questo libro c'è una summa di tutto questo quindi c'è una canzone per ogni segno c'è una carta vincente un tarocco un arcano maggiore per ogni segno ma soprattutto c'è una ci sono una serie di passaggi segreti di porte che si aprono ci sono dei QR code che portano altri video poi ci saranno delle altre cose insomma l'idea dei grafici grafici quello lo devo riconoscere a Claudio che erano almeno cinque anni che diceva io metterei anche delle chicche grafiche che uno colpo d'occhio io no perché poi so decoccio forte quando mi ci metto per cui poi alla fine su quello invece questo fatto di mettere così delle parole chiave dei grafici gli andamenti di dare un colpo d'impatto d'occhio effettivamente ci funziona un sacco ora che lo vedo però è una cosa sulla quale ho un po' frenato l'idea è che questo libro qui ha tutto ciò che c'era negli altri e quindi l'idea del giro l'idea dei film eccetera però ha queste chicche in più questi QR code che aprono delle zone che io reinvento perché poi appunto questa cosa del QR code spalanca delle possibilità di allargarsi di mettere delle cose nuove per cui l'idea è quella di un libro che non abbia la parola fine per cui magari se ci tornate tra due mesi ci trovate un'altra cosa il mio editore dice certo che tutto rende la vita complicata ma fino all'ultimo minuto perché dice ma come fai eppure lì la verità è che alla fine di ogni introduzione come sarà il 2020 ti hai trovato un QR code scopri di più e attualmente c'è un video c'è una storia sta cosa perché io lì ci volevo mettere la scena madre di ogni film perché al di là di come la racconti c'è una scena che andrebbe vista e quindi questa è la mia proposta trovo l'idea del QR code e dico mettiamoci la scena madre per motivi di dritti non si può fare e allora dico faccio un video in cui la racconto questa scena madre poi dico vabbè a sto punto se facciamo un video facciamolo un po' più largo mettiamoci io e te con Claudio chiacchieriamo un po' dell'anno del film eccetera e dico certo che veramente ti vuoi complicare la vita fino in fondo e registriamo questi video il 31 ottobre il primo novembre mentre tutto il mondo sta facendo il ponte di Halloween tutto per cui dico senti almeno divertiamoci un po' devo dire che li registriamo in un giorno quindi ci vengono proprio buona la prima sempre in grande leggerezza mentre registro il primo la mia testa sente la mia lingua dire tornate su questo QR code tra un paio di mesi che magari ci trovate qualcosa di diverso e dentro di me dico ma tu veramente ti vuoi impiccare con le mani tue ma perché c'è una però mi piace l'idea dello famo strano cioè della cosa che gli altri non farebbero fondamentalmente senti Simone la vita di un astrologo è affollatissima i pianeti che ti girano sulla testa i segni le tappe la luna le fasi nuove insomma quanto ti condiziona quanto ti guida questa questo affollamento sulla testa beh da una parte è vero perché effettivamente il cielo non si ferma mai anzi ogni tanto chiederei un giubileo perché ogni tanto vorrei dire vi prego facciamo che per un mese non si sposta niente così non dobbiamo fare approfondimenti non perché effettivamente è tutto in costante movimento io ci ci vado tanto per ciò che devo scrivere per cui so sempre dove sono i pianeti so sempre dove è la luna cioè so in un flusso che chiaramente perché poi è come dicevo prima è come avere un orologio davanti e sapere sempre più o meno che ora è per cui tu ma questo è indispensabile perché se ti siedi e c'hai due ore per scrivere degli oroscopi devi sapere esattamente in che momento stai però poi quando riguarda me non ci penso più di tanto quella che mi condiziona tantissimo è la lancetta del sole il mese quello mi condiziona più di qualunque altra cosa e vi faccio un esempio per me novembre è la decima tappa del viaggio ed è un po' la tappa dei frutti la tappa in cui si tirano sulle reti si vede quello che hai fatto se hai seminato bene se hai raccogli bene se non raccogli tempesta diciamo che il tema stretto è questo per me novembre è sempre stato un mese in cui mi sono laureato ho fatto l'orale d'avvocato ho fatto lo scritto d'avvocato ho avuto i clienti più importanti sul lavoro sono usciti tutti i libri che poi vabbè diciamo che magari il libro d'astrologia è normale che esca a novembre però per me rientra proprio in una sequenza di situazioni analoghe quindi è un mese di grande energia diciamo lavorativa però è anche la pressione della quadratura del sole quindi a me quando esce il libro mi fa sentire effettivamente un po' sotto stress il libro esce quest'anno per fortuna bontà loro mercurio e venere sono più veloci del sole quindi sono arrivati quasi subito in sagittario allora il libro è uscito l'otto di novembre io quella settimana dall'otto al quindici dove c'era tutto inquadratura dello scorpione l'ho vissuta veramente come sul Golgotha mi sentivo impalato tra l'altro andavo a fare le presentazioni vedevo le foto e dice oddio che foto orribili cioè proprio sai il fatto di dire mamma mia che roba come è girata la boa sono andati in sagittario venere e mercurio ho messo la giacca rossa levando quella blu ho cominciato a dire vabbè ma dai le foto se erano belle va bene se no sti cavoli chi se ne frega e ho cominciato a divertirmi poi ovviamente il sole entra in sagittario il 22 di novembre e a quel punto è tutto un abbrivio tant'è che adesso che è ritornato sono ritornati in capricorno questi comincio a risentire di un po' di fatica cioè io quella la sento tanto anche quando ovviamente non lo leggo però lo so dove stanno e sento che cambia un po' il gioco delle energie però sono semplicemente modalità diverse già che lo sai dici ok guarda da adesso stanno arrivando in capricorno mi tornerò a sentire un po' affaticato e le foto mi faranno schifo ma basta saperlo che secondo me lo puoi cavalcare insomma però cerco anche di prendere le mie decisioni a prescindere fatto sta che il 2018 che è stato l'anno con Urano in Toro e Giove in Scorpione quindi il mio segno e il mio ascendente hanno diciamo risentito di questo è stato il primo anno in cui ho saltato il libro e in una sequenza di libri annuali saltare un anno è veramente come saltare la sessione all'università cioè effettivamente i miei editori dell'epoca mi guardavano proprio dire tu sei pazzo cioè questa è una cosa che proprio non si può fare e io invece non ne ho proprio voluto sapere in più è stato l'anno in cui una cosa che volevo fare da anni dove mi ero in Caponito che era Pechino Express mi avevano sempre detto di no quell'anno me l'hanno fatto fare senza l'assurdità saltato il libro arrivato Pechino all'ultimo momento sparato come un tappo di champagne in Africa è stata un'esperienza faticosa e tra l'altro non preparata per cui mi ha dato proprio la fotografia di ciò che per me era importante il libro che non avevo fatto di ciò che aveva rappresentato un capriccio Pechino che di per sé è meraviglioso però io pur di farlo mi ero anche mi ero anche dimostrato disponibile a essere sparato dentro alla quinta puntata così senza passare per il via per cui mi ha è stato un anno difficile che mi ha dato guardandoli in modo superficiale si può dire pure hai fatto una cosa che erano anni che volevi fare e finalmente te l'hanno fatta fare in quell'anno ma è stata la dimostrazione che è stato un giro di campo in un campo che non era il mio tant'è che l'anno dopo sono tornato a fare il libro sì l'anno dopo ho avuto delle difficoltà personali per cui il libro era lì lì per saltare e l'ho difeso con le unghie e con i denti e quindi mi dicevo ma tu pensa nel 2018 in cui non c'era una ragione non hai fatto il libro nel 2019 in cui avresti tutti i motivi del mondo per non farlo lo fai bisogna poi guardarle con l'occhio dello storiografo queste cose nel senso che è chiaro che se ti fermi ad un primo impatto potresti cadere nel tranello di dire ok anno sia non ho fortuna sfortuna non è così è tutto più complesso e quindi insomma alcune cose come dicono i cinesi chi può dire che sia un bene chi può dire che sia un male certe volte lo devi guardare nel complesso nel 2019 io ricordo benissimo in una di queste nostre chiacchierate era appunto dicembre 2019 e mi hai detto perché il prossimo sarà un anno d'aria l'aria circola e ci dimostrerà che non esistono confini esattamente nel momento in cui Simone diceva questa cosa qui ovviamente il covid cioè nessuno poteva pensare che fosse realtà nostra altri astrologi facevano delle previsioni meravigliose per il 2020 giocandosi completamente la testa ora quanto è rischioso fare delle previsioni e quanta vanità c'è quanta tentazione c'è nel dire succederà questo allora effettivamente mi è tornata in mente questa cosa che dicevamo sull'aria che circola è vero era il 2019 e poi non me lo ricordavo si è dimostrato effettivamente molto molto pertinente la verità è che il 2020 era un anno che comunque nel radar degli astrologi già da tempo aveva una marcatura particolare senza poter immaginare che cosa succedesse però effettivamente aveva una congiunzione molto rara tra due pianeti che si erano congiunti solo tre volte nel 1900 quindi un'astrologia prudente che fa mette in confronto i vari tempi in cui si è verificato uno stesso fenomeno e cerca di trarre un comune denominatore nella fattispecie questa congiunzione tra Giove e Saturno era successa solo tre volte nel 1900 nel 1981 82 che sono gli anni del ritorno della guerra fredda di Reagan di Sting che cantava Russians della porra del bottone dell'AIDS insomma non era proprio il massimo poi tornando indietro il 47 che è l'anno del piano Marshall in cui si creano questi schieramenti che poi portano alla guerra fredda e in cui ci sono anche delle emergenze sanitarie e poi il 2017 che è l'anno dell'influenza spagnola e della piena prima guerra mondiale quindi insomma voglio dire le mutande di latta erano quantomeno consigliabili però è chiaro che tu poi ti fermi nei limiti del richiesto nel senso che stai facendo l'oroscopo annuale non è che puoi togliere la metà dei mesi dicendo qua non ve muoverete anche perché poi certe cose sono successe anche nella fermezza assoluta del 2020 in particolare per i segni fissi in particolare proprio nei tre mesi della chiusura totale in cui c'era bisogno di rallentare in cui qualcuno ha cominciato ad rallentare certi dogmi da cui poi è evaso nel 2021 io ho aperto la scoletta YouTube cioè devo dire che comunque qualcosa è successo però al di là di questo è chiaro che non puoi arrivare appunto a lanciarti in una previsione da Nostradamus su una cosa che poi tu puoi dire semplicemente guardate i tre momenti del novecento in cui c'è stato questo stesso allineamento hanno avuto sempre un'emergenza sanitaria e una guerra poi arrivi al 2020 e c'hai l'emergenza sanitaria arrivi al 2022 e c'è pure la guerra perché questa tra l'altro era la risposta che io davo nel 2020 e la guerra non la vediamo ancora per cui diciamo che abbiamo completato il puzzle per fortuna sono stati sempre degli scenari che sono durati tre anni per cui anche questo ci porterebbe a dire che forse dall'anno prossimo cominciamo a parlarne al passato il povero Paolo Fox che è stato è stato bastato per quella cosa lì va detta anche una cosa che è stato è stato silurato da una questione puramente mediatica in quanto essendo il più in vista di tutti è anche il più esposto a cose di questo tipo perché lui poverino aveva detto una cosa sul capricorno che aveva una serie di transiti nella nona casa che è la casa dei viaggi per cui tu dici anno di viaggi certo magari lo dici in maniera meno enfatica infatti sono andato a fare la puntata su a Pinocchio da dj e nel parlare del 2023 ho detto pensate che quest'anno ho scelto 12 film e poi mi sono reso conto dopo averli scelti che sono film di viaggio al che arriva un ascoltatore che dice quindi è un anno in cui si viaggia e dico no allora no cioè sono 12 film di viaggio perché il viaggio in quel tema in quel contesto è la più bella metafora del cambiamento un cambiamento che spesso porta a cambiare anche orizzonti ma non mi mettete in bocca un anno di viaggi che poi magari ci richiudono come sardine e mi dirate sta silurata perché comunque queste cose poi non ha neanche tanto senso dirle però lui le diceva rispetto ad un segno specifico per il quale secondo le regole dell'astrologia lo si poteva dire dopodiché l'hanno estrapolata l'hanno resa come fosse un manifesto nazionale però la verità è questa qui torniamo al concetto della decima casa più sei in alto più i cetrioli te li pigli tu per cui è chiaro che più sei in vista e più se c'è una denigrazione da fare va verso di te inevitabilmente è l'esempio della decima casa e della quadratura alta che ho sempre fatto cioè se tu stai facendo il tappeto rosso a can e ti metti un dito nel naso lo vede mezzo mondo se lo fai nel tuo bagno non lo vede nessuno più sei in vista e più rispondi di certe azioni è chiaro che poi però va detto spezzando una lancia che non aveva detto niente di assurdo sicuramente guardando che era il 2020 e che c'era quella congiunzione io avrei dedicato due paroline sul fatto che forse non era un anno proprio uguale agli altri ma non è mica stato solo Fox anche adesso non ricordo più quale super astrologa americana aveva fatto la stessa fila forse la Miller la Miller la Miller hai ragione anche la Miller che poi lei di solito è prudente estremamente misurata invece si era lanciata no io non lo vedevo bene sin dall'inizio il fatto che fosse bisestile il fatto che però mi ha salvato per esempio il fatto di aver parlato proprio di dei muri del fatto che fosse un anno in cui si segnavano più profondamente certi confini e del fatto però che a dispetto di questi confini l'aria circolasse e se ne fregasse di certe segmentazioni e quindi questo poi ci è ritornato come dire dritto però non è che quando lo scrivevo avessi la ben che minima idea di quello che potesse succedere però io pensavo più a questioni territoriali a questioni ambientali non pensavo certo a una cosa sanitaria allora Simone secondo me la nostra platea si aspetta è certo non la deludiamo non la deludiamo minimamente allora per prima cosa dobbiamo mappare la nostra platea e in questo nel fare questo dividiamo i segni in tre gruppi e comincio da un gruppo vi chiederei di alzare la mano composto dalla riete dal cancro dalla bilancia e dal capricorno ok ci siete anche vabbè gli ascendenti pure contano per cui insomma allora voi sapevate di appartenere a uno stesso stato familiare no perché i vostri segni che sono diversi perché uno è di fuoco uno è di terra uno è di acqua sono in realtà i segni che danno il via alle stagioni cosiddetti segni cardinali per cui sono segni che vivono di iniziativa di intraprendenza chi più chi meno solo che negli anni passati negli ultimi 15 anni quindi non poco la loro intraprendenza è stata frenata sempre o dagli attriti esterni o soprattutto da alcune insicurezze interiori per cui sono arrivano qui scissi da anni in cui hanno certe volte cercato di prendere la strada di rompere certe situazioni di affermare una propria indipendenza di lasciare qualcosa che li teneva compressi e dall'altra sono stati boicottati dalla paura di perdersi di perdere delle certezze ma soprattutto da una latente insicurezza compito diciamo la colpa di tutto questo viene da Plutone che dal 2008 è in Capricorno e quindi è in opposizione al cancro in quadratura all'ariete e in quadratura alla bilancia che cosa ne deriva che l'ariete fa fatica a fare l'ariete e quindi ad azzardare a assumersi i suoi rischi a essere padrone delle sue scelte e guarda con una certa soggezione le figure d'autorità in maniera estremamente sottile il cancro atteso siamo parlando del passato negli ultimi anni a sentirsi da meno e a chiedere all'altro la misura del suo valore accettando quindi delle situazioni che normalmente non sarebbero state accettabili sul lavoro o in amore la bilancia non si sente pronta a dire la sua ad esporsi a camminare da sola e quindi ha passato 15 anni a camminare a braccetto con qualcun altro ancor più a sostenere qualcun altro mandandolo per prima quindi il partner la sua carriera i genitori i figli c'era sempre qualcosa che veniva prima ma c'era anche una bilancia che non si sentiva pronta a fare quel passo e a mettersi in primo piano Capricorno lo lasciamo un attimo da parte nel 2023 Plutone come dicevo prima lascia il Capricorno seppur temporaneamente per cui lascia la quadratura con Ariete e Bilancia lascia l'opposizione con il cancro e quindi questi tre segni intanto rompono il sortileggio di un'insicurezza che si portano appresso da anni ovviamente gli ultimi 15 anni non sono stati tutti uguali io poi nel libro descrivo anche dei trienni in cui il gioco si è fatto ancora più duro e comunque tutti questi 15 anni hanno un giro di boa decisivo nel 2023 in cui è come se la voglia di prendere la propria strada prevalesse sul timore prevalesse sull'insicurezza per cui l'Ariete torna a fare l'Ariete e si riappropria della sua capacità di osare e questa capacità gli è molto utile perché ha il ritorno di Giove nel segno e quindi una serie di opportunità anche per fare un cambio radicale il cancro smette di interrogare lo specchio e chiedere chi è la più bella del reame chiedendolo agli altri e quindi questo gli dà la possibilità anche di dire basta a tutta una serie di situazioni che in passato ha accettato solo per paura di non poterne fare a meno la bilancia smette di mandare avanti l'altro e comincia ad andare avanti in primo piano e a me anche se non è il film di quest'anno anche se ne ho parlato in passato la scena che continua a raccontarmi meglio di qualunque altra la scena della bilancia in questo cambiamento che va avanti da tempo ma che nel 2023 finalmente è pronto è proprio la scena di Lady Gaga in A Star Is Born dove arriva nel retropalco per seguire lui cioè non gliene frega niente del palco gli piace lui e va si trova quasi trascinata sul palco suo malgrado si trova a cantare con le mani sugli occhi come a dire che sto facendo e a lasciarsi andare comunque a un pubblico che poi invece la osanna per cui è una bilancia che sono anni che lavora ad una maggiore indipendenza a essere più pronta più sicura a trovare la sua voce gli ho dedicato il discorso del re e Star Is Born cioè tutta una sequenza di film che hanno proprio a che fare col fatto di dire ora tocca a te e il 2023 è un anno dove Giove è in opposizione quindi anche con una spinta che la bilancia avverte come una sfida e anche con un certo fastidio che però la spinge a mettersi in primo piano tanto per farvi un esempio è come se io stasera non fossi venuto e avessi mandato il povero maestro Rore che mi avrebbe stramaledetto ma si sarebbe trovato a dover fare una cosa che normalmente faccio io che è perfettamente pronto a fare questo è un po' il concetto di questi tre segni che si chiude con il Capricorno che invece è un po' l'asso di briscola di questo cielo perché è lui che ha Plutone in casa dal 2008 ed è lui che se le libera nel 2023 Capricorno segno di grandi ambizioni segno che nasce con un grande progetto che negli ultimi 15 anni è stato come una missione di vita che gli ha provocato più volte di prendere diciamo di farsi dare degli sgambetti di scivolare a valle insomma in certi casi sembrava che fosse l'unico a crederci arriva al 2023 con un chiaro pensiero in testa ma chi me lo fa fare a scegliermi sempre la via più complicata a prendere tutto così sul serio nel 2023 succede una magia Plutone lascia il Capricorno questa febbre si stempera il Capricorno smette di seguire questo navigatore dell'ambizione che l'ha fatto stare come un soldato in trincea e torna a alleggerirsi un po' a scegliere le cose in base a quante lo facciano star bene a cercare anche il piacere non solo il dovere questo fa sì che si riaccenda e che riarrivi più vicino che mai a quella vetta che rincorre da 15 anni scivolando continuamente a valle per cui dopo i primi quattro mesi dell'anno in cui probabilmente c'è ancora un po' da insistere da baccagliare da cercare i giusti compromessi da maggio il Capricorno non lo ferma più nessuno ma in certi casi arriva a realizzare un traguardo che insegue dal 2008 nell'anno in cui ci pensa meno pensate il paradosso perché gli ultimi quattro gli ultimi 15 anni l'hanno fatto stare un po' come un soldato in trincea quanti Capricorni ci sono qui? perché poi che succede? che il Capricorno se qualcuno gli fa uno sgambetto si incaponisce ancora di più se nessuno crede in un progetto piuttosto che non dagli la vinta comunque insiste sempre di più tutto questo va bene però negli ultimi anni gli hanno fatto anche un po' perdere di vista cosa voglio io e cosa veramente mi fa star bene al di là del fatto di avere l'ultima parola su una questione e quindi insomma sono quattro segni che nel 2023 fanno comunque uno scatto decisissimo due i punti fondamentali marzo e maggio poi ci sono i segni fissi che sono il toro il leone lo scorpione l'acquario guardate io chiaramente qui riesco a fare solamente a toccare alcuni punti nel libro se ne parla nel dettaglio però secondo me sono vi danno anche un po' la sensazione degli scatti più importanti questi quattro segni sono i cosiddetti segni fissi perché sono i mesi in cui la stagione comincia a stabilizzarsi andare a regime sono segni che amano i punti fermi che amano le situazioni che ben conoscono che diventano a volte dei punti fermi anche per gli altri cioè tu lo sai che un toro è per sempre cioè un segno fisso lo sai che ce lo ritrovi però dove fanno fatica è con il cambiamento soprattutto se indotto dall'esterno soprattutto se si sentono pressati allora lì fanno muro diventano degli argini dal 2018 in toro c'è urano e quindi nel cielo dei segni fissi di fisso c'è poco perché urano è proprio il pianeta della rivoluzione è la scossa che rompe un vecchio sistema per introdurne uno nuovo per cui nel cielo del toro ma anche dello scorpione del leone e dell'acquario c'è la sensazione che un vecchio schema ormai sia vecchio che ci sia bisogno di tirar fuori qualcosa di più che un vecchio ruolo non te lo vedi più addosso dall'altra parte però dal 2021 c'è saturno in acquario quindi urano in toro e saturno in acquario un bel tiralafone da una parte una voglia di cambiare dall'altra la paura di farlo non sai come farlo come la prenderanno gli altri di cosa vivrai per cui un colpo di qua un colpo di là i quattro segni fissi hanno attraversato gli ultimi anni come Mosè in un faticoso attraversamento del mar rosso dove è chiaro che una certa situazione ormai è diventata vecchia e quindi te la stai lasciando alle spalle è diventata quasi una prigionia però c'è una terra promessa che è veramente molto di là da venire c'è una piumetta che si allontana sempre di più ci sono tutta una serie di situazioni che ti fanno sentire in dubbio il 2023 è l'anno in cui Saturno il Pipurra lascia l'acquario che ci ha abbastanza affaticati lascia l'opposizione con il leone lascia la quadratura con il toro e lascia la quadratura con lo scorpione quindi innanzitutto la prima cosa è che per i segni fissi è un anno che porta una nuova pace in generale però al di là di questo è l'anno che gli permette di fare quell'ultimo miglio nella traversata del Mar Rosso che serve per approdare ad un cambiamento perché ora che Saturno non gli frena più quell'urano lì che è dal 2018 che scuote che rimescola finalmente ha la possibilità di fare un cambiamento decisivo quello che ogni segno fisso poi è fisso a modo suo come avrebbe detto Chi era Tostoi però e questo poi lo leggerete nel libro perché poi questi sono scenari veramente molto variegati però forse l'esempio che li accomuna tutti meglio è quello proprio di suor Cristina che rinuncia al velo perché tra l'altro ho anche letto che lei aveva già chiarito questa cosa dentro se stessa con la sua famiglia con il suo ordine ha messo tutto in ordine da leone alla cuspide con la vergine però è andata al funerale del padre vestita da suora per paura che il dagente potesse malgiudicare questo gesto allora qui c'è tutta l'immagine di un leone ingabbiato in un ruolo e sono tanti che non sa come evaderne soprattutto perché ha paura poi anche di come la cosa possa essere presa ma in generale di segni fissi che stanno cercando di fare un cambiamento ma che sono costantemente intralciati diciamo da situazioni esterne da aspettative da pressioni da condizionamenti eccetera questo è un po' scenario che si rompe nel 2023 per la gioia dei segni fissi allora poi abbiamo i segni mobili che chiudono le stagioni e che sono invece i gemelli la vergine il sagittario i pesci i segni fissi non vi ho chiesto alzare la mano però adesso lo chiedo ai segni mobili tanto per rendermi conto di quanti ce ne siano ok allora anche qui uno per ogni elemento quindi diversi per certi aspetti gli uni dagli altri però anche qui con un tratto comune importante il fatto di essere i segni che corrispondono ai mesi in cui le stagioni finiscono e seminano la stagione che verrà quindi sono zone di passaggio pensate a giugno che è un mese primaverile ma è già estivo nell'animo è già estivo pensate a settembre parlo della parte della vergine fino al 23 è ancora estate ma c'è già tutta quella natura autunnale i segni mobili e i loro mesi sono proprio delle zone di confine per cui sono come dei crepuscoli cioè è un c'è un po' di questo e un po' di quello tant'è che loro sono estremamente versatili estremamente eclettici sanno cambiare facilmente sanno aggirare con elasticità le cose quindi a differenza dei segni fissi il cambiamento è la loro dimensione ideale laddove sono più più in difficoltà invece è la definizione cioè dire io sono questo e non sono altro è il fatto di mettere dei paletti di mettere dei confini di stabilire delle regole di essere rigidi su certe situazioni poi è chiaro che anche qui i segni mobili sono diversi per cui da una parte i gemelli sono un segno mobile d'aria quindi estremamente dinamico dall'altra la vergine è un segno mobile di terra un pochino più organizzato però questa natura mobile ce l'hanno tutti dal 2012 questa natura si è accentuata i confini si sono fatti più labili qualcuno diciamo ha scordato di chiudere a chiave la porta di casa qualcuno se ne è approfittato è entrato ha fatto una razzia ci sono state insomma delle situazioni di grande confusione nel cielo dei segni mobili e la prima cosa che direi è che il 2023 portando Saturno in pesci dove c'è Nettuno dal 2012 comincia a rimettere in ordine tutta una serie di situazioni che si sono sfasate e quindi rimettere in riga tutto ciò che è uscito fuori dal tracciato questo significa per i gemelli avere un ruolo lavorativo più a fuoco significa per la vergine fare delle scelte anche di rottura con il passato laddove se una certa scelta non ti rappresenta più o se ne fa le spese e la tua felicità non va comunque bene e non va sacrificata sull'altare del dovere e del senso di presenza il sagittario comincia a farsi un po' più scafato e a riprendersi ciò che gli hanno tolto e i pesci si fanno più pragmatici e questo è il primo effetto di Saturno e già è tanta roba però c'è anche un altro senso questo disordine che è nato nel cielo dei segni mobili dal 2012 aveva comunque il senso di spingerli a cercare qualcosa di più anche se all'epoca non era chiaro cosa per cui è una spinta all'elevazione è una spinta che gli ha fatto sentire che certe routine erano troppo monotone troppo ripetitive che bisognava cercare un senso più alto alle cose all'epoca però non si sapeva bene che cosa quel Nettuno lì nel 2012 ha creato un senso di disordine perché è come se avesse tolto un tappo d'altro canto se io voglio far crescere qua una quercia arriverà un momento in cui devo togliere il soffitto perché sennò prima o poi quella ci va a sbattere sopra però se tolgo il soffitto se piove mi piove dentro casa e quindi il senso di quel 2012 di quel disordine che c'era nel cielo dei segni mobili era sì un caos ma era anche un allentare un confine che è una circostanza indispensabile per andare oltre per allargare certe situazioni questo per dire che nel 2023 è come se i segni mobili potessero ritornare a fare un viaggio che desideravano fare dal 2012 quindi un cambiamento un'iniziativa ma che allora non avevano le carte in regola per poter fare non avevano un veicolo abbastanza solido per poter fare quel viaggio e quindi sono stati come in un limbo per dieci anni in cui gli sembrava di andare per tentativi di stare come in un videogioco e quindi parto game over ricomincio riparto nuovo game over riparto da un'altra parte e il senso del 2023 per loro è proprio ricomporre come in un puzzle tutti i pezzi degli ultimi dieci anni soprattutto quelli che sembravano passi falsi o situazioni a perdere e quindi gli crea una nuova immagine ecco perché per i gemelli è il momento di fare un salto di qualità sul lavoro che dà un senso a tanti vagabondaggi degli ultimi dieci anni per la vergine di riprendere in mano le eredini di certe scelte che negli ultimi dieci anni ha un po' perso di vista per il sagittario il fatto di cambiare la serratura alla porta di casa e decidere chi entra e chi no visto che comunque negli anni passati le porte erano perennemente aperte e qualcuno se ne è approfittato e in certi casi anche a riprendersi quello che gli spetta con una causa con una sentenza che lo vede vincitore insomma con una giustizia è fatta e ai pesci il fatto di sbarcare una volta per tutte in una vita nuova dopo dieci anni di limbo tant'è che il film che rappresenta forse meglio tutti e quattro i segni mobili della quartina che ho scelto è proprio Terminal cioè dopo dieci anni in una zona transiti dove non avevi le carte in regola per sbarcare finalmente sbarchi e a riguardare bene il film e con questo chiudo quei dieci anni che sono i tre mesi di Tom Hanks al Terminal al 67 non sono stati inutili perché nel momento in cui lui arriva lì non sa neanche la lingua del luogo in cui sta andando non conosce i costumi le regole del gioco gli mancano delle basi dopodiché passa quei mesi quasi come un angelo cioè sta lì la gente qualcuno arriva qualcuno parte qualcuno resta lui sistema le vite degli altri e impara tantissimo tant'è che quando poi poi c'è il direttore dell'aeroporto che gli lascia addirittura i parchi aperti pur di liberarsene ma lui non ne approfitta perché vuole sbarcare quando ha le carte in regola e quindi simbolicamente vuole sbarcare per restare non per scappare e quindi questi dieci anni per i segni mobili assumeranno un senso nel momento in cui nel 2023 gli cambieranno la vita ma in maniera stabile in maniera solida riportandoli ad un desiderio che sentivano nel 2012 quindi c'è tutto un gioco di richiami temporali chiaramente questi sono solamente alcuni piccoli input poi insomma nel libro per ogni segno cerco di tracciare gli anni più importanti intrecciandoli col film però grossomodo diciamo che questa è una prima carrellata di un anno in cui come avrete capito non è possibile fare una classifica e mettere un segno al primo posto e un al dodicesimo perché non ha nessun senso cioè è chiaro che è un sono tre percorsi che arrivano ad un giro di boa fondamentale laddove mi verrebbe da dire questo da qualche anno c'è Chirone in ariete Chirone è il pianeta che rappresenta la ferita ma anche la guarigione in ariete che è il primo segno dello zodiaco rappresenta proprio una ferita dell'identità che sono tutte quelle situazioni piccolo grandi in cui non sei chi vorresti essere questo cielo è come se facendo saltare i tappi cominciasse a guarire una ferita dell'identità per cui i segni cardinali tornano a decidere chi vogliono essere al netto dei condizionamenti e delle insicurezze i segni fissi tornano a decidere chi vogliono essere al netto della paura di cambiare i segni mobili tornano a decidere chi vogliono essere al netto di non averlo saputo però il punto di incontro è sono chi voglio essere e so finalmente chi voglio essere questo potrebbe essere un po' la somma di un anno che è veramente decisivo un po' per tutti spero di non avervi grazie grazie infinite